eccoci arrivati al ventottesimo esercizio di questo percorso in 30 video di meditazioni guidate per affinare la consapevolezza l'argomento di oggi è il distacco nel prossimo video ci focalizzeremo in particolare sull'importanza davvero di lasciare andare per essere semplicemente presenti che ciò che stiamo cercando di allenare qui occorre essere distaccati da tutto ciò che accade questo non significa essere però senza interesse verso le cose verso la vita o essere anestetizzati al contrario sentiamo vediamo con chiarezza tutto ciò che accade senza coinvolgimento personale non rimaniamo imbrigliati intrappolati in pensieri ossessivi che non sono utili quindi per svilupparla questa attitudine saggia occorre essere allerta ogni volta che ci accorgiamo che stiamo rimuginando su qualcosa che ci sono pensieri ricorrenti inutili ce ne rendiamo conto e lasciamo andare il coinvolgimento personale si tratta solo di emozioni pensieri che girano per la mia mente non sono io quindi il distacco è proprio la capacità di vedere le cose in modo così chiaro senza riferirle sempre a me al mio all'io vediamo in modo chiaro senza aspettative di alcun risultato iniziamo dunque la meditazione guidata a cui seguiranno circa 30 minuti di silenzio alla fine dei quali suonerò la campana se arriverai alla fine a solo della campana avrei fatto circa 45 minuti di meditazione entro come sempre in contatto con il mio respiro con il corpo a sentire il corpo qui inspiro ed espiro e mentre inspiro ed espiro in modo consapevole lascio andare qualsiasi aspettativa qualsiasi idea io abbia in questo momento di dover essere in un certo modo di dover raggiungere qualche obiettivo lascio proprio andare qualsiasi idea qualsiasi tensione ma rimanendo qui stiamo sviluppando la consapevolezza è una cosa che richiede di essere svegli di essere coscienti consapevoli di ciò che c'è ovviamente se abbiamo sonno dormiamo come quando abbiamo fame mangiamo ma in questo momento con questo tipo di meditazione non ci stiamo rilassando per dimenticare per non pensare al contrario stiamo cercando di sviluppare la consapevolezza di noi stessi e quindi dobbiamo essere svegli molto svegli se in questo momento ho sonno forse ho solo bisogno di dormire se invece riesco a tenere la mia attenzione alla pancia che si muove con il respiro al corpo alle sensazioni nel corpo posso cercare ora di vedere se ci sono delle aspettative dentro di me se sto meditando perché voglio ottenere qualche cosa o se riesco invece semplicemente a stare anche solo per qualche istante così in ascolto se mostrande se ci sono senza nemmeno aggrapparmi all'idea che la meditazione sia una cosa buona. Non mi aggrappo a nessuna idea. E sento come questo crea uno spazio dentro di me, lo spazio della consapevolezza che mi permette il distacco dalle cose, le emozioni, i pensieri, le sensazioni. Qualsiasi cosa accade, se riesco a vederla, significa che si è creato uno spazio tra la consapevolezza e quella cosa. Mentre magari in passato ero totalmente identificata con un'emozione, con un pensiero, ero appiccicata, coincidevo con il pensiero, Ora vedo il pensiero sorgere, svilupparsi, scomparire. Vedo l'emozione che si muove dentro di me. E questo tipo di presenza a ciò che c'è mi permette il distacco. Di sviluppare proprio questo atteggiamento della mente distaccata dalle cose, distaccata dal risultato. Quindi io non sono distaccata dal sentire, è tutt'altro, sento. Sento anche molto bene se c'è un fastidio, ad esempio. Un dolore lo sento, così come se c'è una gioia, un piacere, lo sento. Ma non sono più identificata con quel sentire. Non penso che quella gioia, quel dolore sia mio. E non mi perdo in pensieri inutili. Sento, sento la gioia. Sento il dolore. Come parte dell'esistenza. Riesco a viverli, a sentirli profondamente. Senza attribuire a queste esperienze significati inutili. Senza raccontarmi storie inutili. E dunque il distacco di cui parliamo qui significa andare al di là del coinvolgimento personale. Sento, sento il corpo, sento i rumori. Sento le emozioni, vedo i pensieri. Sento le emozioni, vedo i pensieri. Quindi sono sveglia, sono attento, siamo vigili. Ma non partono più le storie relative a me, al mio all'io. Sento le emozioni, vedo i pensieri. e se riusciamo a fare questo anche solo per pochi istanti in meditazione piano piano questo diventerà con il tempo con pazienza un modo di essere un modo di stare al mondo riusciamo a muoverci nel mondo con meno paura con meno avidità con più saggezza capaci davvero di scegliere il meglio per noi stessi e per gli altri grazie e posso dunque continuare così per altri 30 minuti con pazienza senza fretta di ottenere subito dei risultati con leggerezza sempre gentile verso me stesso sto con quello che c'è cercando di non aggrapparmi troppo con fiducia e se c'è un brivido di paura attraverso anche la paura qualsiasi cosa si presenti provo a viverla con la solita curiosità con la solita gentilezza consapevole del fatto che questa è davvero la strada che può farmi toccare con mano qualcosa di universale che non ha a che vedere con me con il mio io piccolo qualcosa di universale in modo da immergermi sempre di più da bagnarmi completamente in questa saggezza della consapevolezza grazie 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 a tutti.